Buongiorno a tutti. 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 La responsabilità di determinare l'attività, anche in attenzione della comunicazione della provincia di Napoli, prevedendo un incremento potenziale della quota sociale di oltre lì e oltre lì, ma l'avviso nazionale, nonostante l'incremento di costi per una componente provinciale, riusciamo quest'anno finalmente ad abbassare il costo totale per fare la costa e lo spazzimento di lì. Un risultato importante che ci permette, in questa e l'altra versione di Cirenezza, di abbassare la tariffa per meno riguardo a tutti i cittadini italiani da decenni a mila anni. Anche qui vogliamo fare il punto di stimolamento che ce l'avatevo per mantenere la tipota dell'attività di azione a un cibo, ovvero a 4 per 10. I nostri risultati, con le detrazioni decise dalla normativa, potrebbero pagare il risultato a meno rispetto a quanto pagava l'attività di inizio di 2008. Il limite è ordinamente la compatibilità del bilancio. L'impegno è condizionato a selezioni di scasso, peraltro come detto, dimenticate direttamente dal cibo e da decenni. Se dal trattamento dell'attività di giù, sarà possibile confermare le stime ministeriali, la regolazione dell'attività di azione a un cibo e da decenni. La Commissione ha trovato l'attività di regolamento. Sugli altri mappicati è stato necessario del momento di un punto sulla lingua da parte, del 7,6. In ogni caso di 50, rispetto ai comuni e regioni, si arrivano allo Stato in un parametro dell'attività di azione a un cibo. Qualcuno ha detto che la giunta cascola di Tavessi di Tavessi di Tavessi contraddittura per aver fatto poco. Consentitevi, forse la giunta cascola ha comunicato poco, ma ha fatto tanto. Giù, l'interno maggio 2012, non state orate le osservazioni a tutti, sono scattate in un'attività di norme di Tavartia. Erano decenni che la cibo si diventavano un movimento urbanistico. L'abbiamo fatto in cui voleva lavorare per prendere tutto un strumento che possa creare le condizioni di sviluppo sostenibili del territorio. Lunedì 18 giugno 2012 abbiamo sostenito con la ragione capale l'attore di programma del Tavessi di Roma, un importante rassello della strategia di credito e di sviluppo del territorio nazionale che funziona in controllo di manager, che funziona con il l'attore di ministra di Tavessi di Sottot. A monti di cui si vengono tutti, a un pulsante di Duitifio e ehbita in un'attore di Tavessi di Militario, a un'attore come «du'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'dietà di staggata, Sono stati approvati regolamenti in un sacco, sono stati approvati, sono stati approvati il suo vizionato, razionalizzato e centrazzurato da un modo partita. Sono stati approvati i miei consigli e i miei consigli di intervento, coinvolgendo i suoi articolamenti e comunali che stanno animando, i diritti da un sacco, una macchina fungale troppo forte, controllo e per più bene. Siamo riusciti ad ottenere ben due finanziamenti dalla regione Campania che all'interno del proprio bilancio a San Giaco, 100.000 euro per l'organizzazione del mercato regionale abbiamo auto-organizzato e 90.000 euro per il recupero della stata realizzata dalla sua parte del governo. Abbiamo continuato ad affostare significativi posti di bilancio per il maledimento di servizi pubblici pubblici, città e abbracciare i significativi interventi di manutenzione, ordinari e straordinari dell'azienda, non l'ultimo intervento per il recarcimento di servizi pubblici, e ciò nonostante che il nostro cosiddetto è immancato dall'acquerimento da parte dell'invento della politica del gruppo e da un meredimo dovuto per l'accoglimento della struttura di vista. Ciò è la condizione che il Tribunale, la condizione di tutto il Consiglio Comunale, che il Tribunale, che il pubblico e il pubblico in pace, la pretenda a prevenire un'imprecindibile spavolando sicilità e legalità del nostro territorio. La Giunta, che mi ha proposto approvato una delibera di proposta al Consiglio, con le quali sono state sancite le linee di vista per il finanziamento partecipato, perché il Tribunale, la regione del Consiglio Comunale, di più a poche settimane, ha iniziato a approvare la nostra Giunta. Questo è un'indicazione di vita con quanto già partito dalla precedente appellizzazione di rivoluzione al Consiglio del Presidente, l'assessore Massimo Giustino. Certo, dobbiamo fare le notte, soprattutto dobbiamo rientrare gli investimenti per le opere pubbliche e le informazioni della città che non sono state toccate dai conti del fio ottimo. Edipendente a Gazzino dove si venga recuperato così come il Stato basso, come è in parte di un prodottiere raggiunto al Consiglio Comunale, che forse è rientrare una struttura. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.